usciti da Chieri proseguiamo il nostro cammino sulle orme di Don Bosco. Ci immergiamo nella pianura intensamente coltivata dove nelle numerose cascine si allevano vitelli e si producono latte e formaggi di qualità. Oggi fa caldo, si suda a camminare nella piana poco ombreggiata. Per fortuna troviamo presto una fontanella che ci fornisce acqua fresca ma guardandoci attorno scopriamo la statua che ricorda San Domenico Savio nato in questa piccola e modesta casa nella frazione San Giovanni di Riva presso Chieri. Diamo un'occhiata alla cartina e ci soffermiamo a leggere la guida per saperne di più. Vedi qui è nato San Domenico Savio ma tutta questa è una terra di santi. Scopriamo che siamo nella terra dei santi così chiamata perché nell'ottocento furono in molti santi o beati a nascere da queste parti.